Cos'è una città? Un enorme labirinto di strade, ponti, piazze, gallerie, viali? La manifestazione di una memoria che condividono i suoi abitanti e ragione della loro storia collettiva? Forse è solo il luogo che scegliamo per convivere con altri sconosciuti con i quali condividiamo qualcosa di simile all'anima, uno spirito, una maniera di vedere la vita. Grazie